La Nissa dovrà impegnarsi tanto non appena avrà superato l'emergenza Covid se vuole completare con successo l'aggancio al treno playoff. Le avversarie infatti procedono a passo spedito, tranne l'Enna sconfitta a Castellammare, un campo ostico dove a breve dovrà recarsi anche la Nissa. Rinviato il big match tra Canicati e Mazzarese, sempre per l'emergenza Covid, si registra la netta vittoria dell'Akragas 3-0 sul campo del Cus Palermo, una squadra formata prevalentemente da giovani. Il successo del Misilmeri per 2-0 che arriva dopo tre sconfitte consecutive è sicuramente tonificante per la squadra palermitana e quello del Profavara che affrontava il Marsala presentatosi con sette uomini in campo. Sul risultato di 1-0 per gli Agrigentini la partita è stata sospesa quando un giocatore marsalese si è infortunato. rimasti in sei, i trapanesi come dal regolamento, l'arbitro ha fischiato la fine. Per quanto concerne le altre gare della 24esima giornata, l'Unitas Schac è andato a vincere 2-1 sul campo del derelitto Casteltermine, adesso ad un sol punto dalla Nissa, mentre il Mazzara ha pareggiato in casa con il Marineo. La classifica con i biancoscudati che hanno una partita da recuperare nella parte alta è la seguente. Canicattì 57, Acragas 49, Don Carlo Misilmeri 47, Profavara 44, Mazzarese Enna 40, Nissa 37 e via via tutti gli altri.